Vediamo in questo video come scaricare la traccia dal nostro strumento Flymaster, quindi strumento collegato, aperto il Bedwood Designer Flymaster, connected instruments, nome dello strumento, download IGC. Vengono visualizzate le varie tracce, andiamo a prendere la traccia che vogliamo scaricare, la selezioniamo, save, scegliamo in quale cartella la vogliamo salvare, salva, dà un errore di check room fail, ma in realtà la traccia viene scaricata correttamente. Se invece vogliamo scaricare la traccia utilizzando GPS Dump, apriamo GPS Dump, dopo aver naturalmente collegato il Flymaster col cavo USB, andiamo a scegliere il pulsante Flymaster, selezioniamo il volo che vogliamo scaricare, ok, vengono scaricati i singoli punti del volo, edit, select all, file, save log as IGC, verifico i dati del pilota, ok, e seleziono in quale cartella andare a salvare il file. String 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 Grazie a tutti.